Incidenza dei positivi al 4,4%. La Sicilia verso la conferma della zona arancione. Da oggi a domenica il vaccino AstraZeneca senza prenotazione. Giuliana Miciche. Mentre la maggior parte delle regioni italiane marciano spedite verso la zona gialla e si comincia già a pensare alle prime riaperture dal 26 aprile, la Sicilia sembra destinata a restare in arancione con diverse zone colorate in rosso. A cominciare dalla provincia di Palermo, a causa dell'alto numero di contagi e della difficile situazione negli ospedali con i reparti Covid sotto pressione. Nell'isola sono 1.288 i nuovi positivi al coronavirus su 29.049 tamponi processati, con una incidenza del 4,4%. La regione è terza per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e la Campania. Le vittime sono state 10, per un totale di 5.218. Il numero degli attuali positivi è di 25.188, con un incremento di 289 casi rispetto al precedente report. I guariti sono 989. Negli ospedali i ricoverati sono 1.456, 21 in più, e quelli nelle terapie intensive sono 182, 2 in più. Ecco la distribuzione dei nuovi casi tra le province. Padermo, 298, Catania, 517, Messina, 98, Siracusa, 98, Trapani, 43, Ragusa, 7, Caltanissetta, 110, Agrigento, 90 ed Enna, 27. Nel frattempo la regione cerca di accelerare sul versante delle vaccinazioni già a partire da oggi. Visto il successo nello scorso fine settimana, ha deciso infatti di replicare l'open weekend con un giorno in più. Alle giornate di venerdì, sabato e domenica, infatti, si aggiunge anche quella di oggi, giovedì 22 aprile. Negli hub centri di riferimento della regione è possibile vaccinarsi con il siero AstraZeneca e senza prenotazione per gli ultrasessantenni, ovvero persone tra i 60 e i 79 anni, che non presentano fragilità. Lo scorso fine settimana sono state oltre 26.000 le somministrazioni del vaccino di Oxford nelle 66 strutture operative nelle nuove province. Infine è stato deciso che saranno somministrati i vaccini a domicilio anche per i familiari conviventi e per gli accompagnatori dei soggetti vulnerabili o affetti da disabilità grave. E a fronte dell'intensificazione della campagna vaccinale, prosegue il piano di consegne dei vaccini anti-Covid in Sicilia. Il Corriere Espresso SDA di Poste Italiane ha appena recapitato nell'isola ulteriori 25.100 vaccini AstraZeneca. Tra gli altri, ad Agrigento sono giunte 2.110 dosi, a Palermo 6.300 e a Caltanissetta 1.300. Salgono così a oltre 450.000 le dosi vaccinali recapitate dagli appositi furgoni SDA nei centri in Sicilia dall'inizio delle forniture. Grazie.